Dopo l'Olimpiade delle Clanf e niente da fare nemmeno per la rampigada Santa, la non edizione della cronoscalata a piedi, in bicicletto e in entrambe le discipline dell'erta cittadina di Scala Santa si sposta online chiamando a raccolta la partecipazione degli utenti con la propria creatività. Da parte quindi i 2050 metri di lunghezza interamente pavimentati in pavè di Scala Santa con la sua pendenza media del 16,2%, solitamente affollata da tenaci sportivi o da semplici amanti dell'evento e della gogliardia che viene espressa durante questa manifestazione. Le restrizioni di legge dovute alla pandemia di SARS-CoV-2 hanno imposto una lista di obblighi, protocolli ed empimenti talmente vasti da trasformare un'organizzazione fattibile per un'associazione piccola come la Spitz in una rischiosa avventura troppo dispendiosa sia in termini economici che di forza lavoro, peraltro tutta volontaria. Ecco allora la rampigada Santa Virtual Edition che invita tutti a sfidarsi a colpi di video, mini spot a favore della mobilità sostenibile o perle di elogio alla fatica sulle proprie gambe. Iscrizione sul sito www.spitz.it, 30 secondi di video, abbiamo dato tre temi da utilizzare, mobilità sostenibile, una salita che non conosciamo e che ci volete far conoscere oppure un elogio alla fatica. Fino al 30 settembre è possibile sfidarsi, i video vanno mandati alla pagina Facebook della rampigada Santa. L'invito è quello di realizzare delle clip divertenti ma di rispettare la legge e il codice della strada, altrimenti il video non verrà pubblicato.